Salve! Ratchet e Clank Diavoli Fortunati Angela Cross Vi ha appena inviato un saluto galattico! Ragazzi, se ricevete questo messaggio, venite subito sul mio mondo natale Ho trovato il mio vecchio tesserino identificativo Sono abbastanza sicura che lo potremmo utilizzare per infiltrarci alla Megacorp Ma dovete fare in fretta Prima che i Protopet riescano a eliminarci tutti quanti! Scusate per il pallagramma, era l'unica cosa che ho trovato sul pi... Spero che abbiate gradito i vostri saluti galattici!